Nel paese della pasta e della pizza essere intolleranti al glutine è una vera tortura, eppure quello che capita ai celiaci, il cui numero nel nostro paese è in continua crescita. Nel 2011, infatti, rispetto al 2010, c'è stato un aumento delle diagnosi del 19%. Complessivamente in Italia i celiaci diagnosticati sono 135.000, troppo pochi, secondo il Ministero della Salute, che ha appena depositato la sua relazione al Parlamento su questa malattia. La celiachia è infatti l'intolleranza alimentare più frequente a livello mondiale e ha una prevalenza stimata dell'1%. In Italia, quindi, dovrebbero esserci circa 600.000 celiaci e non 135.000. I dati del 2011 confermano comunque il trend in aumento già osservato negli anni precedenti. Purtroppo al momento non esiste alcuna cura per questa malattia, se non una dieta senza glutine. Anche se sono in via di sperimentazione due pillole, ma i risultati al momento sono meno incoraggianti del previsto. Quanto al vaccino in via di sperimentazione sull'uomo negli Stati Uniti, serviranno ancora almeno 7 anni di ricerca.